Salve ragazzi, oggi vi faccio vedere giusto come sbloccare un trofeo su un nuovo gioco uscito gratis per il plus su PS4, Strider. Il trofeo è intoccabile, vi dovete trovare più o meno a questo punto del primo livello, con il vostro Strider. Adesso vi faccio vedere che cosa dovete fare, bisogna uccidere 20 nemici senza farsi colpire. Torniamo in vita. Qui ci saranno sempre questi tre, poi ritornate da capo indietro e ci saranno sempre questi due. Poi ritornate di nuovo indietro e ci sono di nuovo questi tre. Ripetete questa operazione fino a quando arrivate a 20. E avrete fatto il trofeo. Io non farò video su questo gioco perché ho tanti altri video da fare. Comunque, ciao ragazzi.